La Camera Ardente è aperta dalle 14, allestita al Comune in via Schiti. Manca soltanto l'ufficialità ma i funerali delle otto vittime del crollo di rampa annunziante saranno svolti domani mattina alle 9 presso la Basilica della Madonna della Neve. Oggi pomeriggio tutta la città di Torre Annunziata potrà rendere omaggio alle vittime del crollo. Intanto continuano le indagini da parte della magistratura che nelle ultime ore stanno ascoltando decine e decine di testimoni. Il cerchio si stringe attorno agli operai che per giorni hanno lavorato al secondo piano del palazzo che poi si è sgretolato. C'è da capire cosa è successo, quale manovra è stata effettuata che ha provocato il crollo delle strutture portanti. Intanto la comunità si stringe attorno al parroco, domani a celebrare il funerale sarà il Cardinale di Napoli, crescendo il Presidente Giuseppe.